Guys, se era taccia eh, se era taccia, se era taccia da cui ci portiamo a casa i tre punti, se era taccia da cui ci portiamo a casa se vogliamo il primo gol di Sule con la maglia della Juventus dei Grandi, però se era taccia, se era taccia di cui ho già parlato un pochettino, non tantissimo, ma nel primo post partita sul numero 10, quindi se avete voglia di andare a prendere anche quella parte di post partita che non tratteremo in questo video, vi invito a scaricarlo gratuitamente dal link in descrizione e c'è proprio una breve post partita di 4-5 minuti da andare a vedere pure lì, però volevo spendere qualche parola anche qui sul canale perché io sono stanco, io sono veramente stanco di vedere le stesse cose, perché arrivati al 12 di marzo io mi aspetto decisamente di più di una squadra come la Juve, che sarebbe sì seconda ai punti conquistati sul campo in campionato, ma non è questo il punto, non è questo il punto perché ancora una volta prendiamo il gol e noi quando prendiamo il gol ragazzi è come farsi crollare una carriola piena di mattoni addosso, vede presente nei cartoni animati quando crollano le carriole piena di mattoni? uguali, investiti da un tir, perdiamo completamente tutto, non siamo più in grado di concepire, primo tempo, primo tempo di questa gara meritavano di farne tre o quattro loro, tre o quattro, due errori nostri, rimpallo, giocata, errori nell'uscita, se lo meritavano? e se lo sarebbero meritati, stiamo parlando di una squadra che non ha praticamente mai fatto gol in stagione, praticamente mai stasera ha rischiato, io non so quante partite la Samp, sono curioso di ascoltare Stankovic cosa dirà, non so quante partite la Samp ha fatto con così tante palle gol all'interno di una gara quest'anno, non lo so, noi non possiamo concedere a una squadra del genere tutte queste palle non possiamo, almeno possiamo però allora alziamo le mani e chiediamoci che cosa vogliamo fare perché oggettivamente non si può e poi ancora nel finale questa voglia di cercare di difendere questo risultato a me non piace sentire l'allenatore che continua a dire la bandierina, la bandierina, la bandierina perché abbiamo paura che l'ultima in classifica in casa ci possa fare anche il terzo gol cioè sono cose, io capisco che ci siano delle serate storte, lo capisco però il quarto gol, il quarto gol della Juventus questa sera nasce da una volontà della squadra di ignorare l'allenatore avete visto Allegri quanto era incazzato in panchina nel finale? perché non gli davano retta? perché la squadra continuava ad andare, continuava a crossare Danilo che mette la palla di là sul secondo per quadrado il calcio d'angolo che viene battuto tutte cose che Allegri non voleva tutte cose che Allegri chiedeva di aspettare, di ragionare perché il 3-2 andava benissimo certo, ti porta a casa di tre punti però questa squadra, io credo che anche i giocatori stasera abbiano avuto quel moto d'orgoglio da pensare ragazzi ma saremo comunque ben più forti di questi abbiamo fatto delle paperate perché abbiamo fatto delle paperate nel primo tempo due pallegoglie le regaliamo perché siano dei polli, siano dei tocchi due pallegoglie le regaliamo un minuto di matta glielo regaliamo io credo che un giocatore della Juventus questa sera in campo debba aver pensato qualsiasi giocatore della Juventus debba aver pensato ma ragazzi, ma sul serio comunque noi a questa Samp non siamo in grado di dargiene quattro? e meno male che ci sia riusciti con anche un rigore sbagliato la malasorte il palo di Vlaovic su rigore la traversa di quadrado il nuovo palo di Vlaovic su quel tappin di sulle io stasera mi porto a casa Miretti che mi è tornato a fare una prestazione fatta bene finalmente Fagioli che mi va a fare quella prestazione sempre di contenimento, di gestione senza palla si muove Rabiot che mi va a fare la doppietta è il primo gol di Suley ma per il resto io stasera faccio fatica a portarmi dentro delle cose davvero positive perché io stasera ho visto delle cose molto preoccupanti molto preoccupanti per una squadra che tra quattro giorni deve andare a giocarsi un ritorno degli ottavi di Europa League non sto parlando della finale di Champions non sto parlando della finale di Champions ma se la Sampdoria è in grado di metterci sotto è in grado di metterci sotto e con questa facilità e ragazzi due domande vanno fatte e vi prego guardate ve lo chiedo per cortesia non venite a me a dire eh sì però sai mancava Di Maria eh lo sai però mancava Chiesa lo sai però mancava Pogba a loro? non mancava nessuno? non mancava nessuno a loro? giocava senza il portiere titolare il portiere da loro aveva mai giocato in Porta ragazzino che aveva mai giocato in Serie A l'esordio all'Alian Stadium con la Juventus non andiamo veramente a parlare degli assenti questa sera questa sera ci sarebbe semplicemente da fare un bel respiro e dire ragazzi c'è andata di lusso così c'è andata di lusso così perché abbiamo concesso fin troppe palle gol a questa squadra qua che comunque anche dall'analisi ieri avevamo visto no? stamattina che è una squadra che ci prova a farti la partita ci prova e poi negli ultimi metri fa un po' fatica stasera a me è sembrata una squadra la Sampdoria che poteva veramente dirci a tratti ragazzi sapete cosa? stasera non la vincete e nella gestione della palla c'erano dei momenti in cui sembrava veramente una squadra di serie B e angoli regalati e passaggi sbagliati rimesse non battute a un metro la palla che andava là in fondo cioè tecnicamente questi qua si vede che sono una squadra all'ultimo posto noi abbiamo fatto una fatica bestia problema mentale ragazzi problema mentale a marzo non ci può più essere con una squadra del genere poi con giocatori del genere forti perché sono giocatori forti i giocatori della Juve Vlaovic sembra la brutta coppia di non lo so di Amauri sembra Amauri in crisi ma ragazzi ma dai io non posso accettare delle serate del genere delle serate in cui mi viene il nervoso perché stasera sono veramente arrabbiato io stasera sono veramente arrabbiato perché non puoi regalare degli spezzoni di partita del genere la Sampdoria non puoi non puoi perché allora poi ti chiedi cosa giochiamo a fare cosa giochiamo a fare qual è l'ambizione qual è la volontà vincere che cosa le coppe oh ragazzi questi qui erano terrificanti la Sampdoria siccome è negli spogliatoi incassata come una iena cazzata come una iena che stasera poteva fare risultato non lo so mi sembra che ogni tanto questa squadra faccia dei passi all'indietro clamorosi perché proprio qui non bisogna lavorare intanto qui intanto qui e poi sul campo perché facciamo dei movimenti che non hanno minimamente senso e io non posso pensare che l'allenatore un allenatore come Allegri non mi vada a migliorare non ci provi nemmeno a dire Dio santo sarà che forse dobbiamo cercare niente niente stasera veramente sono molto molto amareggiato porto a casa la vittoria perché meno male che sia riuscito a vincere con l'ultima in classifica anche se avevo il centore che potesse andare veramente male da prima della partita ma così tanto non sarei riuscito a scrivere un thriller con questa trama veramente stasera sono molto preoccupato molto preoccupato perché appena mancano quei due tre giocatori fium risucchiati nel vortice contro una squadra qualsiasi che